Festa di Natale con gli atleti della associazione sportiva di rettantistica Canguro Basket. In campo anche le famiglie. I genitori degli atleti si sono cimentati in gare di tiro e di palleggio e poi hanno gareggiato con i loro figli. Entusiasmo alle stelle e l'augurio di ripetere questi momenti. L'iniziativa di ieri, denominata le famiglie in gioco, che si svolta nella palestra dell'Istituto Comprensivo Don Milani, diretto da Rocco e in Cardona, è stata preceduta da una tombolata e dalla condivisione del progetto. Un progetto dalla parte dei bambini per renderli competitivi nella vita e nello sport. Tutto sotto la regia del presidente Patrick Giarrizzo. Oggi è un giorno di festa, siamo stati insieme alle famiglie e quindi i bambini si sono divertiti insieme ai propri genitori. Auguriamo a tutti un buon anno, un felice Natale, sereno e speriamo che l'anno nuovo ci riservi tante sorprese belle per tutti, soprattutto per i nostri bambini. Il responsabile del settore mini basket e componente dello staff mini basket Sicilia, Croci, la cognata. Il canguro SD è questo, cioè vivere insieme il gruppo, insieme ai bambini, insieme alle famiglie, divertirsi. Il mini basket deve essere obbligatoriamente questo, un nuovo modello di fare mini basket che permette ai bambini di potersi divertire, dove le famiglie diventano corresponsabili di questo progetto di crescita. Gli istruttori ci siamo, l'associazione c'è, le famiglie ci sono, i bambini ci sono. Cercheremo di creare un bel modello che possa essere da esempio di vita e di crescita per i nostri piccoli e grandi cangurini. Auguriamo un buon anno, un felice anno nuovo a tutti, tutta la città e sperando che il 2017 sia profigo per tutti, per quello che si chiede e si vuole nella vita.